Quando il sole tornerà Scende la pioggia, ma che fa? E viene giù dal cielo, lenta Ecco le previsioni Previsioni per la settimana prossima in Lombardia Cielo coperto con qualche episodio di debole pioggia Copertura nuvolosa associata a riduzione della visibilità Settimana variabile dunque Con qualche speranza di vedere sporadiche apparizioni del sole Al centro si rinnovano condizioni di generale stabilità Sia sui settori adriatici che su quelli terrenici Al sud e sulle isole invece Molte nubile con piogge sparse Su Sardegna, Sicilia e Calabria Mari molto mossi o agitati Grazie, 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 grazie a tutti Grazie Carlo, grazie Carlo Per avermi rimesso al Festival di CronTV Comunque noi ci vediamo la settimana prossima Lo stesso su Senti che Tempo Ciao le amici Ciao le amici Ciao le amici